Non intendo alimentare uno scontro che rischia solo di distogliere l'attenzione dall'obiettivo principale, la realizzazione dell'opera e la sicurezza della viabilità. Mette subito i puntini sulle I Maria De Palma, sindaco di Marciano della Chiana, che preferisce le soluzioni alle polemiche e si dichiara da tempo in contatto con la provincia di Arezzo per seguire da vicino l'iter progettuale del ponte di Cesa. Il primo cittadino parla esplicitamente di rassicurazioni del presidente Alessandro Polcri sullo stato di avanzamento del progetto per il quale sono stati stanziati 330 mila euro. Una posizione opposta a quella del comune di Castiglione Fiorentino, dunque, che rivendica lo slittamento dell'intervento dal 2023 al 2025 e punta anche il dito sul bilancio che contiene questo stanziamento. Una vicenda che rispecchia gli equilibri o squilibri politici che dir si voglia che si sono venuti a creare nell'ente provinciale e che ora vacillano sempre più.